Fermo lì, fermo lì è troppo grosso l'orecchia vediamo qui gli occhi sono particolari gli occhi sono proprio particolari vediamo qua, ecco qua fermo, fermo, fermo ecco il nasino ecco il nasino così è qua fermo eh fermo ecco adesso devo fare gli occhi gli occhi devo fare devo fare gli occhi ecco ecco c'è questa cosa qui e qua e qua così ecco qui l'altro occhio guarda guarda che mi guarda ecco qua ecco qua ecco qua ok la bocca è molto è molto è molto eccolo qui ecco fermo guarda guarda che bel bambino è venuto fuori è proprio bello eh no no ha fatto molto molto veloce eh sì eh meno di tre minuti eh sì non c'ho sì poi si è girato è un po' più grande sembra più grande sembra più grande allora devi ridere più eh ok vi faccio ridere più ecco qua ok un po' di ombra qua un po' di ombra ok ecco va bene ok ok ecco 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 Grazie.